Fa quello che vuole, fa il cantante, fa lo sportivo eccetera ma non gioca con me, non gioca perché poi non fai a lui parlare perché se no non c'ho nulla contro di te, mi raccomando, fa quello che vuole. Non ho voglia di diricare, qualcuno mi sfiora, tu mi sfiori, ti fanno cambiare i connotati, non hai capito se sono calabrese, se sono sudamericano, game over, a canna. Controllarmi, a canna bro, ti cambiano i connotati, quindi o sei gentile o famo la guerra, te lo dico subito, non mi frega un chiazzo. Controllarmi. Ha brutto, non fa me che non sei altro, famo una cosa allora, famo una guerra, fammi vedere un attimo sudamericano, Calabria, quello che dici. Ha pentito fracico, hai preso più terapia, porco sio che altro, far bravo davvero, ha canchero. Poi se poi ti ho detto, il numero mio ce l'hai, vieni. Senti fratellone, guarda, io non c'ho un cazzo contro di te, ok? Scusa, forse ho reagito male a un consiglio che tu mi stavi dando da fratello maggiore bro, ma io sto nell'embolo, oggi dentro al Burger King ho pistato tre persone, tre. A uno gli ho fatto mangiare il vassoio, ti giuro non è che ce l'ho con te, è che mi hai contattato in una situazione, lo sai meglio di me o quando noi testi calde si innerbosimo, c'è sta poco da fare. Assolutamente nulla contro di te, non mi è piaciuta la parola infame, ti chiedo scusa per quello che ho detto anch'io. Perchè altro c'è rimasto... Grazie. Grazie.